Ecco un annesimo volume dell'editoriale Cosmo, secondo me da non perdere, questo Charlie Moon, l'ultima gioventù. In copertina una immagine tratta da Charlie Moon, l'ultima gioventù, è l'altra serie che viene qui antologizzata. Sono due serie scritte, entrambi da Carlo Striglio, disegnate da Horacio Altuna, quindi due grandi dell'Istorietas. La prima uscita sul finire degli anni 70 in rivista, l'altra nei primi 80. Con due differenze di ambientazione, Charlie Moon racconta di un adolescente nell'America della Grande Depressione, a fine degli anni 20, anzi ho detto una sciocchezza, siamo negli anni 30 perché questa cosa viene neanche in qualche modo detta o meglio fatta avvertire all'interno del fumetto attraverso l'esposizione di determinati manifesti cinematografici, quindi è possibile datare queste storie, mentre l'altra è l'ultima gioventù ambientata nella contemporaneità alternativa di quando è stato creato il fumetto, quindi diciamo una New York degli anni 80 che però è stata devastata da un conflitto che ha avuto come arma finale una bomba capace di sterminare solo gli adulti però, perché colpisce soltanto le persone che hanno provato desiderio sessuale. Quindi il mondo è affidato adesso ai bambini che però moriranno quando raggiungono la maturità sessuale. È inevitabile non pensare a un romanzo uscito da poco in Italia, cioè Anna di Niccolò Ammanniti che poi ha anche dato spunto a una serie televisiva diretta dallo stesso scrittore e questa cosa viene tra l'altro anche ricordata nell'editoriale che apre l'albo, il redazionale che apre l'albo e ci sta insomma perché c'è una coincidenza di ispirazione abbastanza forte. Allora veniamo al primo di questi due fumetti, cioè Charlie Moon. A me è ricordato un po' il Ken Parker degli esperimenti senza parole di Berardi e Milazzo. Tra l'altro bellissima la prima immagine con il titolo Charlie Moon che viene avanti vignetta dopo vignetta come fosse, non so quasi, come se spingesse o fosse trainato dal piccolo protagonista che è questo qui, è un adolescente probabilmente di bassa estrazione sociale che nell'America povera e profonda, l'America provinciale degli anni 30 deve campare come può. E quindi sono storie, sono piccole storie poetiche, quasi senza dialogo. Nella prima vediamo che lui cerca i soldi per andare ad assistere al concerto di un gezzista, un gezzista bianco. Questo gezzista bianco poi lui non riuscirà a vederlo perché non ha abbastanza soldi, ma riesce a intrufolarsi nel dietro del quinte e scopre un uomo tra l'altro odioso, da un lato pieno di paure diciamo per garantire, perché continui la propria situazione di potere in quanto artista acclamato dalle folle, ma allo stesso tempo un uomo odioso che tratta male i suoi colleghi e Charlie tornerà a casa abilito da questa cosa, salvo poi difenderlo con un collega di lavoro di colore che aveva in qualche modo stigmatizzato la cosiddetta, aveva messo in dubbio la bravura di questo gezzista in quanto bianco. E Charlie però finge insomma di essersi divertito, questo è il collega. L'ultima immagine è di un Charlie che poi ha la stessa copertina, di un Charlie così triste e che in qualche modo i suoi sogni di ragazzo hanno subito un primo scossone. Ho raccontato questa prima storia semplicemente per far capire il tono, il tono del registro che è un registro malinconico, stuporoso, quello proprio che in qualche modo è giusto che sia così sia affidato al racconto dell'infanzia o dell'adolescenza, cioè periodi in cui in qualche modo l'innocenza, si ha la perdita dell'innocenza. Così come è bellissimo è l'episodio in cui Charlie è un suo amico, così ci ricorda un po' anche certo Mark Twain, cioè Gary Huck Finn e Tom Sawyer e le loro storie di avvicinamento non tanto all'età adulta diciamo ma al momento in cui si può almeno far finta di esserlo. Ecco, è qui che fanno un'uscita con due ragazzine e ci sarà anche un po' l'esito non proprio felicissimo per Charlie di questo primo dolce innamoramento, ma sono purtroppo poche le storie di Charlie Moon, sono tutte bellissime e mettono un po' il dito sulle piaghe sociali dell'America del tempo, cioè c'è il razzismo, c'è la povertà, c'è il classismo, come abbiamo detto ci sono le ambasce di un ragazzo alle prese con i primi turbamenti amorosi, la scrittura di Carlo Striglio è ispiratissima perché è molto asciutta anche se capace di toccare il cuore. Mi è piaciuto di più diciamo questo che non il più celebrato Alvar Major, su cui peraltro mi sono già espresso, anche qui parere personale, però forse più nelle mie corde ecco questo racconto di formazione veramente bellissimo. Così come bellissimo è anche l'ultima gioventù. Ci sono un po' tutte le, diciamo così, adesso mi viene da dire cliché una parola brutta, ci sono le stazioni, ecco diciamo così, di un racconto distopico con una città morta, una città che appartiene ormai, come dicevo, soltanto ai bambini e che la gestiscono come sanno, cioè non in modo particolarmente saggio, magari sono affascinati, che so, vanno a, compiono chiaramente atti di violenza, di bullismo e magari più volentieri rubano dei giocattoli che non hanno la roba da mangiare, ma questo è anche il bello insomma di questa serie, dove c'è questa spada di Damocle della maturazione sessuale, cioè quando i bambini crescono e hanno il primo desiderio ecco che muoiono. Questo fino alla fine della serie, che poi naturalmente avrà una conclusione che non la dico per chi la vuole leggere, è un momento, ci sono pieno di momenti anche amari e commoventi, per esempio un bambino che viene bullizzato chiede l'aiuto del padre e il padre ormai è ridotto a una divisa, era un poliziotto, una divisa lasciata sul letto, ma anche un'arma da fuoco. Quindi, cioè, come per l'infanzia, come un po' succede nel mondo degli adulti, quando è l'infanzia a dover decidere a darsi delle regole, ecco che si arriva alle armi, alla violenza, esattamente come nel mondo degli adulti. Questa è un po' la morale amara di Triglio e Altuna, anche se poi personaggi positivi non mancano. C'è un personaggio rana che è un po' ricorrente nella storia, insomma, così come un altro personaggio così anche disturbante, quella di un unico adulto rimasto perché è un eunuco, adesso cosa ci faccio un eunuco a New York? Non si capisce bene, ma magari qui un termine di comodo, e che cerca di, vuole creare un suo regno promettendo mari e monti a quelli che sono, che saranno i suoi futuri sudditi. Poi parte della narrazione è ambientale, cioè naturalmente si tratta di procacciarsi il cibo, la fame diventa la, il metro con cui si misura tutto in un mondo, no? In cui sono crollate le sicurezze sociali, ma sono crollate proprio le strutture del vivere comune, ecco, in questo caso, e quindi a un certo punto si abbandona la grande città per andare nelle campagne, ma anche qui naturalmente si deve fare incontri con persone più affamate, no? E quindi ancora più persone che sono sempre bambini, diciamo, ma ancora più predisposte alla violenza. Come avete visto dalle poche tavole, così che ho fatto vedere, chiaramente i disegni di Altuna sono spettacolari, sceneggiature di Trigo, meravigliose. Questo secondo me è un piccolo, è un album, un piccolo gioiello che per 7,90€ veramente è un delitto lasciare in edicolo. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.